Che importanza hanno per me i media? Io credo che siano un mezzo, che non debbano diventare qualche cosa di cui essere schiavi, molto semplicemente. Non debbano diventare fagocitanti delle nostre opinioni, della nostra identità, non debbano condizionarci in qualche modo. Anche per Francesca, bagno di folla qui a Giffoni. Ma che cosa penserà di questo festival? L'impatto è stato brevissimo perché mi hanno presa e catapultata subito a fare le interviste, però è stato di una bella scossa d'adrenalina anche solo arrivando. Poi per me che sono particolarmente timida, la botta è bella forte, credo che dovrò tenermi un attimo per non cadere, però è molto bello, mi piace molto. La canzone che mi fa venire in mente e la felicità in assoluto è Obla Di Obla Da dei Beatles. Obla Di Obla Da Life Goes On 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 Obla Di Obla Da Life İslam